E questo è il compare di gara 1 della categoria A tra il primo e il secondo classificato, primo Cristiano Orlandi 48 e 44, secondo Francesco Dimitri 48 e 59, quindi sono 9, 6, 17 centesimi di vantaggio al traguardo da parte di Cristiano, ricordiamo ancora che noi vediamo soltanto 22, 23 secondi di gara, quindi possiamo vedere cosa è successo in questo pezzo di gara. Ma sicuramente è stato un corpo a corpo su ogni porta da parte di due atleti veramente esuberanti, è anche interessante vedere la differenza di sciata, soprattutto comparata anche alla differente, non me ne voglia Francesco, prestanza fisica. Ricordiamo che Francesco è chiamato Iron e ci sarà un motivo per cui è chiamato Ironman. Allora, partiamo al solito con lo slow motion e direi che è molto interessante vedere cosa succede qui, già in questa porta. Vediamo la sciata di Cristiano, tutte e due bellissime sciate, molto potenti, molto aggressive, in cui Cristiano si apre di busto rischiando di andare un pochino indietro, forse di perdere un pochino esterno, addirittura il braccio destro risfugge indietro, mentre Francesco si porta continuamente in avanti, però c'è un'altra differenza, che Francesco forse doveva andare un po' più in profondità, qui ha già gli sci girati, quindi se avesse premuto decisamente, caricato decisamente lo sci esterno, sarebbe passato addirittura all'interno in questa porta blu ed è costretto un po' a derapare. Mentre Cristiano, nonostante appunto quella distensione forse un po' troppo verticale, lascia andare ancora gli sci un po' in avanti e inizia la curva parecchio dopo Francesco, quindi l'entrata in curva, la presa di spigola comincia dopo e la chiude molto rapidamente con la sua potenza e comunque chiude stretto sul palo tanto quanto Francesco, anzi addirittura di più, proprio perché è stato paziente e è andato più in profondità. Continuiamo ad andare avanti, più o meno vediamo che la sciata è quella, quindi ci sta questa cosa di Francesco di portarsi sempre avanti, ma non avere la pazienza che invece ha Cristiano che forse ha qualche volta una distensione un po' troppo verticale. Si entra sul piano, anche qui vediamo subito Francesco molto aggressivo, pulito e anche Cristiano estremamente potente, una potenza che però magari poi lo porta qualche volta a uscire un pochino dai binari, vediamo qui che scende un pochino Cristiano invece forse Francesco riesce a stare, vedete, più bene sul taglio puntando la porta successiva. Però due bellissime sciate, un bellissimo testa a testa, andiamo a vedere come si conclude questo testa a testa su questa porta qui, chiedo scusa su quella precedente, dobbiamo vederla, e sostanzialmente si chiude a pari merito, quindi questi 17 centesimi si sono consumati di porta in porta, una volta un centesimo io, una volta un centesimo te. bravissimi tutte e due, non vedo l'ora di vedervi in gara 2, 3, 4, 5, 6, tutte le gare Mastermind.